Ben ritrovati a questa venticinquesima edizione del premio Möbius, la trasformazione digitale delle culture, inteso come sfere culturali. Finora ne abbiamo aperte due di queste sfere culturali, quella relativa all'editoria e quella relativa ai media. Domani ne apriremo altre. Quando però si parla di innovazione, digitalizzazione, cultura digitale, non si può non parlare di intelligenza artificiale. Se ne parla da anni, crea spesso molte discussioni anche importanti, ma è forse il momento in questo venticinquesimo anno di esistenza del Möbius per trarre un bilancio, ma soprattutto uno sguardo al futuro. Lo facciamo con il prossimo simposio. L'intelligenza artificiale è una nuova rivoluzione economico-industriale. Siamo pronti. Lascio la parola ad Alessio Petralli. Grazie. L'intelligenza artificiale è venuto fuori anche prima, è sicuramente una parola chiave che ci accompagnerà nel futuro per parecchio tempo. Quindi con il Möbius che compie 25 anni ci siamo detti, va bene, guardiamoci un pochino indietro perché fa sempre bene sapere da dove si viene, ma soprattutto guardiamo indietro per prendere la rincorsa e guardare avanti. Allora, dove guardiamo? L'intelligenza artificiale è sicuramente una prospettiva da tenere d'occhio in maniera molto interessata perché oggi ne parlano tutti, tra l'altro. Mentre se torniamo indietro di 30-40 anni non ne parlava quasi nessuno. Però da noi c'era già un istituto di cui oggi parlano tutti, che si chiama Istituto Dalle Molle di Studi sull'intelligenza artificiale, e del quale 30-40 anni fa non parlava quasi nessuno, anche perché erano in pochi, mentre adesso sono diventati tanti, quasi potrei dire tantissimi. E negli anni Ottanta si occupavano soprattutto di traduzione automatica, erano già a Lugano per vicissitudini storiche che non racconto, magari molti di voi già le sapranno, però avevamo un vantaggio di posizione netto nell'avere qui l'Istituto Dalle Molle. E allora mi sono detto, visto che l'Istituto Dalle Molle prospera, è diventato anche molto più grande, appartiene sia all'USI che alla SUPSI, è riuscito a far portare qui all'UBS un centro di sviluppo per quanto riguarda intelligenza artificiale, finanza non casualmente. Quindi mi sono detto, se il Möbius vuole cercare di restare come osservatorio del digitale sulla cresta dell'onda, per quanto possibile per la nostra piccola fondazione, deve farsi aiutare da certe forze e la prospettiva è un nuovo premio per intelligenza artificiale e nuove editorie digitali. Però ieri sera ci siamo ritrovati con tre autorevoli membri dell'Istituto Dalle Molle, più Luca De Biase che era con noi, per una riflessione approfondita, dobbiamo lasciare decantare quello che posso dire che in questa direzione ci stiamo andando, vogliamo andarci con convinzione, ma non sarà semplice, però credo che l'anno prossimo avremo questo nuovo premio che dobbiamo ancora cercare di caratterizzare meglio, ma l'intelligenza artificiale sarà al centro. Io adesso do subito, anzi scusate, prima devo invitare gli ospiti a venire qui, comincio ad invitare Mauro Dell'Ambrogio, che invito a venire qui accanto a me su questa poltroncina per cortesia, che è stato tante cose che non vi è numero, ma soprattutto segretario di Stato e per la formazione alla SEFRI, quindi una funzione fondamentale, un viceministro sostanzialmente che andava in giro per il mondo a firmare contratti di ampio respiro, definiamoli così, anche molto cospicui, e poi chiamo Stefano Santinelli, benvenuto, amministratore delegato di Swisscom Directories SA, poi Lorenzo Leoni, managing partner di T-Venture, di Fondazione Centenario di Banca Stato, Luca Soncini, prego, che è docente di strategie bancarie, banking strategie, all'USI, e poi Simone Visfedele, prego signora, che è la CEO di Switzerland Global Enterprise, e qui abbiamo davvero un bel panel che rifletterà sui temi dell'intelligenza artificiale, chiedendosi se siamo pronti rispetto a questa nuova rivoluzione economico-industriale, animati, moderati e guidati da Marco Zaffalon, che invito a venire sul podio, che è direttore scientifico all'Istituto dalle Molle di Studi sull'intelligenza artificiale da tanti anni, non diciamo quanti, perché anche tu sei ancora molto giovane, e poi anche il capo scientifico presso una nuova ditta che si chiama Artificialy a Lugano. Io lascio la parola a lui per l'introduzione, vuole dire qualche parola? Sì, sì, ecco, prego. Ok, grazie Alessio, grazie tantissimo ad Alessio, appunto all'organizzazione del Moebius per averci invitato, ringrazio tantissimo anche i nostri ospiti, questa è una cosa a cui tenevo molto, cioè cercare di parlare dell'EIA in Ticino e Svizzera e dei suoi effetti sull'economia. Questo intervento mio soprattutto sarà non tanto relativo a Lizza, perché Lizza è in piena salute, sta benone, non è che dobbiamo andare in cerca di soldi, quello che interessa a me è parlare dell'EIA in generale, parlare dell'EIA come può avere un effetto sull'economia in Svizzera. Quindi abbiamo pianificato le cose così, intanto ognuno dei nostri ospiti farà una piccola introduzione personale, dopo io faccio un'introduzione un po' generale sull'EIA e insomma queste questioni economiche e dopo ci sarà un dibattito aperto, forse un po' atipico nel senso che lo lascerei un po' vivo a seconda delle persone che vogliono intervenire e cercare di vedere cosa nasce insomma da questa discussione. Quindi prima di tutto chiederei a Mauro Dell'Ambrogio cortesemente se vuole iniziare. Grazie, io ho avuto l'avventura una mezza dozzina di anni fa per incarico del Consiglio federale di presiedere un gruppo di lavoro che doveva definire la strategia della Svizzera in merito all'antilligenza artificiale, un gruppo di lavoro interno come s'uso nell'amministrazione dove i vari dipartimenti sono rappresentati, poi qualche esperto esterno, qualche professore del politernico eccetera. E poi queste strategie servono da base quando si tratta di fare quello che lo Stato fa cioè regolare, regolamentare oppure spendere soldi, investire. Credo che il rapporto sia pubblicato da qualche parte, ma è stato un lavoro interessante perché ha permesso di capire anzitutto quanto il tema debba inevitabilmente essere settorializzato perché ogni settore dalla vita pubblica è confrontato con la sfida dell'intelligenza artificiale, alcuni settori già in modo avanzato, altri meno, ad esempio il settore del traffico, già oggi i satelliti sono in grado di vedere la situazione del traffico e poi con degli algoritmi si danno dei consigli e conducenti su quale via preferire perché ecco, lì c'è già dell'intelligenza artificiale, quindi sì. Però ecco, la grande sfida per il settore del traffico sarà se e quando autorizzare i veicoli senza conducente. Ecco, quindi ci sono degli aspetti, questo naturalmente è una sfida per chi si occupa di questo. Nell'agricoltura, anche lì i satelliti sono in grado di misurare, non solo fare le previsioni meteorologiche, ma l'umidità del suolo, tutta una serie di fattori, per cui un domani si potrebbe anche lì arrivare a suggerire agli agricoltori quando è cosa seminare, contare le mucche che sono sui pascoli, distribuire i sussili, cioè fare tutta una serie di cose che vanno sotto il titolo di digitalizzazione, ma sempre con questa componente in più, che ci sarà sempre di più, che facilita le decisioni e permette di gestire i processi, direi quasi, quasi, perché bisogna sempre sottolineare questo quasi indipendentemente dall'intelligenza, dalla volontà umana. E quindi alla fine il rapporto è un catalogo di previsioni, di possibilità, di ipotesi, di sfide, settore per settore, difficile alla fine vedere una trasversalità. Poi si può andare lentamente nella filosofia, nella sociologia, dire quanto cambierà l'essere umano a dipendere di tutto ciò, ma un'amministrazione non osa farlo. La conclusione che vorrei, perché mi è stato detto di essere breve, sul punto sul quale tutti ci siamo trovati d'accordo, per esempio forse l'unico aspetto trasversale, è che se queste sfide, le risposte a queste sfide saranno essenzialmente globali, come è già stata gran parte della digitalizzazione, abbiamo visto, cioè le applicazioni poi nascono sul mercato globale, non è che un paese possa fare granché, ma perlomeno cercare di mantenere la Svizzera all'avanguardia per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione in questo settore. Questa è la sfida più immediata. Abbiamo già dei centri d'eccellenza, uno anche in Ticino è stato menzionato, perché tra l'altro ho avuto occasione più volte nella mia carriera di accompagnare nelle diverse fasi, quindi conosco bene la storia dell'edizia. Però ecco, si tratta di fare in modo che non solo la fase più scientifica, ma anche quella che poi è sempre più difficile, cioè creare la Google dell'intelligenza artificiale di domani, probabilmente non sarà in Svizzera, è poco probabile, ma almeno cercare che ancora una volta, se non la Svizzera e l'Europa, non perde il treno e si riesca ad essere innovativi e capaci di avere un ruolo, non solo di usarla nell'intelligenza artificiale, e qui concludo, ma anche di contribuire a svilupparla. Benissimo, grazie Mauro Dell'Ambrogio, adesso sentirei Stefano Santinelli. Grazie Marco, come Syscom abbiamo la fortuna noi di vedere tutti gli aspetti dell'intelligenza artificiale, intanto di come la utilizzano i consumatori, da qual è il mercato che si offre dal punto di vista delle prestazioni, dei servizi e poi da come viene utilizzata nelle aziende. Come consumatori siamo non solo pronti, noi utilizziamo l'intelligenza artificiale come elemento fondamentale di tutto quello che facciamo online, quindi gli algoritmi sui media sociali, gli acquisti che facciamo sull'e-commerce, l'intrattenimento che facciamo su Netflix o su Iscon TV, sono zeppi di intelligenza artificiale, è una cosa che utilizziamo 4-6 ore al giorno. D'altra parte ci sono le aziende, e le aziende collezionano in questo momento una marea di dati e senza essere capaci di processarli, hanno le aziende in Svizzera, hanno pochissima intelligenza per utilizzare tutta questa marea di dati. E quindi cosa succede? Che la competitività delle aziende si perde. Si perde, si va, come consumatori si è orientati verso colossi internazionali, perché lì si ha un'esperienza molto molto migliore, solo lì si hanno veramente soddisfatte tutte queste aspettative di un mondo molto intrattenente, molto ludico, si viene veramente catturati nei mondi dei social media, delle reti di intrattenimento internazionali. Per le aziende è un tema difficilissimo utilizzare l'intelligenza artificiale perché c'è poca competenza sul mercato, perché la Svizzera non è un ecosistema chiuso, quindi bisogna orientarsi ai mercati globali e perché il nostro substrato di aziende sono soprattutto piccole imprese. E per le piccole imprese utilizzare l'intelligenza artificiale vuol dire orientarsi verso progetti molto molto concreti, iniziative molto molto concreti, che portano poi un ritorno dell'investimento in campo molto breve e non ci sono tanti prestatari di servizi che lo sanno fare. Dal punto di vista della società, l'intelligenza artificiale ha un'importanza fondamentale, intanto perché è un mercato ad oggi di più o meno 70 miliardi, dal punto di vista mondiale, quindi è un mercato a sé. Il Ticino può giocare un ruolo molto molto importante, in questo mercato è basato su delle competenze molto molto specifiche, ma soprattutto dal punto di vista della società questo exploit, questo uso dei dati for good, quindi per scenari, per migliorare la società, per migliorare la nostra vita di tutti i giorni, è un potenziale incredibile. Basta pensare nel campo citato da Mauro Dell'Ambrogio, nel campo dell'agricoltura intelligente, ma anche nel campo della sanità, se potessimo veramente collegare questi 20 miliardi di oggetti per migliorare l'ambiente, per migliorare il traffico, per migliorare le mie prestazioni sanitarie basate sui dati che i miei orologi e i miei vestiti collezionano, ha veramente un potenziale enorme. Il pericolo che spesso viene citato è assolutamente reale, cyberterrorismo e poi soprattutto utilizzare l'intelligenza e i dati per scopi non prettamente nobili. Dal nostro punto di vista noi ci concentriamo sull'aspetto migliore delle AI, che è cercare di aiutare le aziende a trarre veramente il meglio di queste bellissime, interessantissime, affascinanti tecnologie e offrire dei servizi a dei consumatori che sono molto agguerriti nel campo per essere competitivi su mercati globali e, come ha detto Mauro Dell'Ambrogio, far sì che le aziende svizzere restino competitive sul mercato globale puntando veramente sull'eccellenza, sull'innovazione e sull'intelligenza. Grazie Stefano. Fra l'altro, forse una cosa che può incuriosire le persone che ci stanno seguendo è quando questa affermazione che hai fatto, quando dici non c'è abbastanza competenza, quindi forse magari possiamo approfondire dopo questo punto. Un'altra cosa che mi ha venuto in mente, mentre parlava anche Mauro Dell'Ambrogio, che in effetti noi all'inizio abbiamo già un progetto con l'ESA, l'ente spaziale europeo, per monitorare i campi da satellite. Quindi una cosa che si può fare, funziona in realtà. Lorenzo Leoni, cosa ne pensi? La mia prospettiva è quella di chi sta lavorando ormai da diversi anni nello spingere a creare aziende innovative, sostenibili economicamente in Ticino. Io ho girato un po' il mondo, sono stato negli Stati Uniti per diversi anni, sono passato dal settore accademico, dove ero ricercatore, arrivo al settore dell'impresa, dove ho creato diverse società. Sono passato anche per un periodo di cinque anni alla direzione dell'Agenzia dell'Innovazione del Canton Ticino. All'interno ho creato una struttura di finanziamento per le aziende, perché è un gap fondamentale per esattamente complementare quello che diceva Mauro Dell'Ambrogio, che è la quantità e la qualità di investimento che viene fatta a livello svizzero, a livello di innovazione, educazione e ricerca. E uno degli elementi fondamentali è che il Ticino deve partecipare a questo e io con la nostra squadra cerchiamo di giocare all'attacco. Fondamentalmente in che modo? Andando a cercare opportunità di investimento in aziende giovani che hanno delle tecnologie assolutamente competitive a livello internazionale. La grandissima fortuna del Canton Ticino è che nel settore dell'intelligenza artificiale c'è non solo un centro di competenza, ma c'è una generazione intera quasi di ricercatori che poi magari non sono più in Ticino ma sono andati in tutto il mondo perché qua è stato per anni e non è tuttora un punto di riferimento internazionale e che non è stato monetizzato di fatto, io lo dico così brutalmente, ma di fatto nessun quale non abbiamo innestato non abbiamo attaccato delle opportunità economiche imprenditoriali di qualità e questo gap è un gap che stiamo cercando di risolvere, non è così evidente perché abbiamo un problema culturale in Ticino dove sembra che sia più interessante discutere di situazioni di difesa piuttosto che giocare all'attacco dove perdiamo un sacco di tempo politicamente a parlare di frontalieri e di salari minimi quando la realtà dei fatti è che se non creiamo aziende che creano valore tutto questo gran bel gioco rischia di perdersi. Ma purtroppo anche il settore economico, finanziario è un settore che ha giocato e sta giocando per anni in difesa in difesa di un ambiente che è quello del private banking su cui perdere asset era quasi un'eresia investire in equity cioè investire in un'azienda capitale di qualcuno buttarlo e farlo uscire dalle banche cosa che ovviamente ha creato una resistenza enorme. Ma lì vediamo la convergenza di situazioni cioè di fatto noi ci accorgiamo e dico una cifra le nostre aziende in Ticino hanno raccolto quasi 80 milioni di franchi da investitori privati negli ultimi sei anni. Perché? Perché in realtà la volontà di investire in economia reale in progetti che hanno un impatto diretto in tecnologia che ha un futuro c'è da parte di tutti. E dunque purtroppo c'è una situazione se mi accorgo l'ho fatto opposta per dare un po' una mano a Marco che voleva polemizzare un attimino ma me ne approfitto questa è una lotta che non è solo una bella cosa da fare ma è indispensabile cioè non possiamo che il Ticino rimanga in una situazione di difesa costante quando il resto del mondo in particolare la Svizzera è leader a livello di economia innovativa e dunque lo facciamo molto volentieri abbiamo avuto fortuna di avere diversi casi che sono andati molto bene l'integrazione in queste aziende in vari ambiti che vanno dalle biotecnologie alle tecnologie mediche alle tecnologie industriali dei modelli di data analytics di artificial intelligence è inevitabile nel senso che adesso praticamente quasi tutte le nostre aziende hanno una componente molto forte di analytics che è in grado grazie agli algoritmi grazie al know-how che abbiamo sul territorio di essere sfruttato dalle aziende per migliorare la loro competitività essendo aziende nuove possiamo partire ground up è quello che giustamente dice Stefano è molto più difficile per un'azienda diciamo già esistente di approfittare di queste opportunità perché chiaramente ha una cultura che si è sviluppata nel tempo ed è difficile innestare anche un approccio diverso noi partendo da zero possiamo fare le nostre scelte di investimento anche sulla possibilità di integrare questi sistemi e questi algoritmi e queste metodologie di analisi che danno un vantaggio competitivo alle aziende ma non è un'opzione è un obbligo nel senso che non potremmo avere una società un'azienda che vuole posizionarsi a livello globale in qualunque ambito se non ha a disposizione anche un know-how molto forte in ambito di artificial intelligence e anche qui ripeto una fortuna che abbiamo in Ticino di avere a disposizione queste competenze abbiamo investito in Artificialy una società creata da Marco Zaffalon abbiamo investito in Game Therapeutics che verrà premiata domani che utilizza dei sistemi molto avanzati di computational modeling per trovare nelle molecole nelle proteine la possibilità di sviluppare nuovi farmaci abbiamo investito in società che fanno sistemi di ispezione ottica in ambito industriale nella produzione di macrochip delle board anche queste in collaborazione con IZIA tra l'altro e abbiamo investito in X-Farm che è una società che si occupa della digitalizzazione dell'agricoltura che anche qui integra tutti i dati che sono enormi i flussi di dati che sono a disposizione per migliorare l'efficienza nell'agricoltura innovativa e dunque sono solo esempi ne potremmo portare diversi ma diciamo che per noi il challenge rimane quello di da un lato lavorare sulla cultura chiamiamola di approccio sia bancaria finanziaria sia educativa culturale sia la più difficile con la politica onestamente detto perché l'attention span della nostra controparte è veramente molto limitata però la realtà dei fatti è che siamo convinti che le nostre aziende sapranno confermare il buono che c'è nel Ticino e la capacità di creare eccellenza e di integrarlo a livello globale ovviamente io non potrei essere più d'accordo con Lorenzo e fra l'altro T-Venture è chiaramente un esempio bellissimo di come si può investire in innovazione ed avere successo e fare eventualmente anche profitto poi ci sono le banche naturalmente io ho qualche esperienza con UBS perché abbiamo una collaborazione lunga con Liz e so che loro si muovono insomma hanno investito in AI e stanno facendo vari progetti con noi anche senza di noi però più in generale il panorama magari bancario finanziario Luca Soncini com'è? Ma Marco allora in estrema sintesi magari cercando di recuperare un po' di tempo io direi questo il settore finanziario che qui rappresento dove ho lavorato per 30 anni è un settore che ha fatto un po' fatica anche solo a capire che il vero vettore del cambiamento e delle rivoluzioni che la finanza ha conosciuto negli ultimi decenni veniva soprattutto dalle tecnologie cioè noi abbiamo perso un sacco di tempo con un focus sugli aspetti normativi regolatori fiscali e non ci siamo accorti che in realtà la vera rivoluzione era quella tecnologica è quella che ha cambiato i processi di lavoro all'interno della banca che ha cambiato le sale mercati i back office lo stesso rapporto tra consulente e cliente il modo di fare crediti e paradossale perché l'idea che questa è almeno secondo la mia esperienza e non secondo la tua magari Marco però secondo la mia esperienza nei rapporti esterni così si ha sempre un po' questa impressione che la finanza venga vista come diciamo il gota del moderno del tecnologico perché è legato a Wall Street ai film non lo so non lo so che cosa però io avevo sempre un po' questo conflitto tra una realtà quasi polverosa che troviamo all'interno dei sistemi finanziari perché nel mondo i sistemi finanziari sono molti non è uno solo perché la globalizzazione è un processo che è iniziato tardi la banca centrale europea sapete che è una delle ultime diciamo sviluppi della finanza perché la finanza è nata per motivi regolatori soprattutto in modo atomizzato l'Italia la Germania la Francia per non parlare appunto dell'America l'Asia eccetera allora questa è la finanza un mondo diciamo conservatore fondamentalmente che non ha capito l'importanza della tecnologia nel proprio lavoro è un qualcosa di cui si occupava l'IT come settore separato tra l'altro sempre molto separato che a volte non aveva neanche accesso diciamo alle stanze delle grandi decisioni sto parlando dei decenni naturalmente adesso è cambiato moltissimo con un'accelerazione negli ultimi anni quindi è vero è un mondo che gioca un po' in difesa in questa ragione Leoni preciserei solo così animo un po' il dibattito che per fortuna oltre ai difensori abbiamo i mediani abbiamo ogni tanto anche qualche attaccante e qualcuno che fa gol lui lo sa bene perché tutti gli esempi che ha citato di T-Venture sono tutti esempi di cui dobbiamo ringraziare anche Banca Stato e il contributo che ha dato così come dobbiamo ringraziare UBS per l'iniziativa che riguarda Manno che riguarda il tuo istituto quindi ogni tanto per fortuna c'è qualche numero 10 che parte e fa qualche gol però fondamentalmente non era una difesa la mia perché sono assolutamente d'accordo siamo un po' tanto sulla difesa adesso vorrei toccare un secondo aspetto legato al primo che è questo voi sapete che le banche da 600 anni fanno intermediazione il bilancio bancario per definizione fa la raccolta al passivo e fa gli impieghi all'attivo giusto? e in mezzo c'è un margine poi c'è il fuori bilancio con la gestione patrimoniale e tutte le attività di fuori bilancio però l'attività bancaria è da 600 anni intermediazione si dà il caso che con la digitalizzazione noi viviamo i tempi della disintermediation e questo è drammatico per le banche e però è anche quello che ha permesso di fare quel click che io osservo oggi per fortuna nel nostro mondo però con grande fatica perché la banca rischia di perdere la propria ragione di essere intermediare con tutti gli sviluppi che stiamo assistendo si vede costretta e ora stanno rivedendo a velocità supersonica tutte le strategie per tener conto da un lato dei fenomeni di disintermediazione che riguarda la gestione patrimoniale riguarda i crediti riguarda i pagamenti riguarda i servizi di base riguarda tutto con una convinzione questa è la prima reazione della banca è stata il cliente avrà sempre bisogno di noi no? perché noi facciamo le cose tailor made perché noi ci basiamo molto sul one to one tutto questo è stravolto in pochi anni e l'intelligenza artificiale con le sue applicazioni sta accelerando questo processo quindi vedete un mondo tradizionale un mondo che non aveva capito e sta capendo adesso l'importanza delle tecnologie però anche un mondo che deve reagire per sopravvivere e deve cercare queste alleanze con le nuove tecnologie con la disintermediazione per fare in modo in realtà di essere ancora lì e cercare di giocare un ruolo in questo in questo nuovo B2B B2C C2C che sta cambiando diciamo il modo di interrazionare tra chi produce dei prodotti e dei servizi e dall'altra parte chi li consuma un'ultima osservazione e chiudo dove sono i dati Stefano hai detto prima nel nostro telefono e cosa hai detto l'altro esempio che hai fatto non mi ricordo più però tanti dati li abbiamo noi tanti dati sono sui conti correnti sulle carte di credito abbiamo un accumulo di dati incredibile per noi si tratta e qui è la sfida di cui parleremo più nel dettaglio dopo legata all'intelligenza artificiale cioè un uso naturalmente rispettoso delle norme che ci stiamo dando non ci siamo ancora dati ma adesso sì pian piano arrivano GDPR in Europa adesso arriva anche la Svizzera l'anno prossimo eccetera quindi nel rispetto delle regole ma anche con questa ambizione di voler utilizzare i dati come diceva Stefano Santinelli prima a favore dei bisogni degli individui a favore dei bisogni delle aziende e noi banche paradossalmente così tradizionali e così spaventati dalla disintermediazione siamo seduti su una banca dati purtroppo mal organizzata magari entrerò nei dettagli dopo mal sfruttata ma che se ben giocata e quindi qui entriamo nel merito di quanto dicevo a chi mi ha preceduto cioè di avere questa capacità diciamo di creare all'interno del nostro paese delle nostre società questa voglia questa forza propulsiva di utilizzo dei dati per migliorare la nostra vita e migliorare quindi il rapporto tra fornitore di servizi e prodotti in questo caso la banca la finanza e i clienti di là individui e aziende e sarà la grande sfida grazie mille Luca molto interessante adesso vorrei passare a Simone Swiss Fedele scusi che non conosco direttamente però io sono stato in contatto diverse volte con Switzerland Global Enterprise che trovo veramente un organismo eccellente per esempio prima di venire qui stavo in contatto stavo parlando facendo una call con Hyundai perché Hyundai vuole fare qualcosa con Itzia e il contatto è stato fornito da SGE quindi Switzerland Global Enterprise prego grazie tanto e Swiss va molto bene perché presento oggi anche la Svizzera io vado a parlare della domanda siamo pronti della perspettiva della Svizzera però anche della perspettiva dell'investment promotion perché noi facciamo export promotion che vuol dire che a PMI a Svizzeri aiutiamo nei paesi stranieri avere successo e poi cerchiamo anche in dieci paesi e più delle aziende stranieri che sono molto innovativi anche sulla domanda di AI per averli in Svizzera allora per me per la domanda mi ho chiesto che è importante io penso la prima domanda è che serve che queste aziende vengono qui nel nostro ecosystem la seconda domanda è che abbiamo oggi dove siamo e la terza domanda è che facciamo come possiamo sviluppare dove siamo oggi allora che serve è molto semplice se un'azienda vuole venire in Svizzera è interessato sul fatto se qui ci sono i partner giusti i talenti giusti o accesso nei mercati importante per me e se c'è un diciamo un ambiente dell'autorità pragmatica quello è importante e di questa cosa si può creare un sistema di innovazione dove la scienza con i suoi talenti può lavorare con il mondo di business in un modo che creare l'innovazione allora dove siamo la Svizzera ha una storia di successo proprio nel AI perché per primo la Svizzera è veramente un pioneer in questa tecnologia ha cominciato con la Svizzera che era parte dell'internet dell'inizio e poi anche l'izia ha fatto una tecnologia che oggi è usata di tutto telefonini diciamo e poi abbiamo un ecosystem che è almeno nell'Europa per artificial intelligence diciamo numero uno nei ranking e perché perché abbiamo un scienza e dei talenti fantastici abbiamo l'izia abbiamo l'ETA e e tante università che sono già nei ranking e si vede anche che siamo uno dei paesi con le pubblicazioni tanto importante su questa domanda poi siamo stati molto bravi con i nostri partner di attirare diciamo i global tech players allora abbiamo Google in Svizzera abbiamo IBM in Svizzera con la nostra ricerca e sviluppo proprio sull'AI abbiamo Hevlett Packard posso cominciare e questi sono qui e lavorano anche con diciamo i multinational dell'industria con l'Abb l'IBM Google con la Novartis Nestle e anche qui posso continuare e tanti tanti piccole imprese e di questo è anche nasciuto che abbiamo dei patenti molto importanti e anche qui siamo sul ranking sul primo posto mondiale allora non è male però è anche possibile quando io parlo con delle aziende in altri paesi mi dicono perché qui è sicuro perché qui c'è un governance sulla domanda di data security che è molto chiaro e poi è anche bello vivere in Svizzera lo sappiamo tutti però c'è un'alta quality of life una infrastruttura che è molto bene e le autorità sono flessibili e questa conta allora adesso mi ho chiesto che noi che dobbiamo fare noi con i partner no? è molto importante che tutti noi con una voce possiamo dire che sì la Svizzera è sul domanda di AI numero uno in Europa siamo in generale il leading innovation and technology hub worldwide e poi veramente trovare queste compagnie che mancano ancora in Svizzera e ci portiamo qui insieme è quello che dobbiamo fare allora siamo pronti sì penso penso prontissimi per esempio l'anno prossimo abbiamo avuto una crisi però in Svizzera abbiamo avuto 10% più aziende che sono venuti che hanno che hanno creato più di mille nuovi posti di lavoro allora penso c'era soltanto Irlandia che era anche positivo tutti i paesi nel mondo sul negativo allora c'è un buon livello e c'è l'energia di continuare quello successo nel futuro grazie grazie io ovviamente sono d'accordo dal mio punto di vista ci sono dei chiaroscuri quindi adesso magari in questa introduzione che all'AI per come la vedo io insomma la situazione in Svizzera illustro magari più gli scuri che non i chiari così ci possiamo fare una discussione sopra al proposito è un pochino più lunghina della vostra spero che non vi dispiaccia ma è perché parlo anche un attimo di AI quindi introduco il settore e cosa è successo cosa ho visto io stando all'Izia quindi il titolo va bene chiaramente avete capito è un po' provocatorio e adesso vi vi spiego il perché quindi partiamo dal Ticino se perché questo funzioni chiaramente e se no vado avanti così aspetta no 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 ma penso che vada adesso eccoci qua allora partiamo dal Ticino cosa c'è in Ticino abbiamo parlato già tante volte c'è l'istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale che è nato diciamo quasi casualmente perché è stato grazie a quel signore lì Angelo Dalle Molle che era un imprenditore italiano però anche un filantropo il proprietario della Marocinar e voleva fare qualcosa di buono per la società e ha pensato di creare degli istituti di tecnologia molto avanzata di AI e è riuscito a farlo in Svizzera con dei contributi anche cantonali della città di Lugano e confederati adesso l'istituto è cresciuto molto siamo come vedete di tanti professori ricercatori e studenti di dottorato cosa facciamo facciamo pubblicazioni ne facciamo tante un centinaio all'anno tiriamo portiamo a casa circa 5 milioni di franchi all'anno di fondi competitivi quindi cose che ci portiamo a casa noi da Unione Europea piuttosto che a Fondo Nazionale in Oswis e così via di mandati diretti e poi chiaramente insegniamo a vari livelli qui in Ticino abbiamo parlato di AI brevemente che cos'è l'AI l'AI è una disciplina che insegna il computer a risolvere problemi di vario genere cioè l'idea stessa di problemi in qualche maniera quindi se riusciamo a fare questa cosa qui riusciamo grossomodo a risolvere tantissimi problemi utili e per questa cosa serve fare quello che si chiama machine learning machine learning vuol dire che i computer imparano da soli guardando dei dati questa cosa qui è esplosa nel 2012 cioè l'AI esisterà tantissimo come concetto dagli anni 50 del secolo scorso però le applicazioni vere che vediamo noi tutti i giorni sono cominciate nel 2012 questo perché sostanzialmente abbiamo avuto un incremento di potenza di calcolo enorme che ha raggiunto il limite tale per cui abbiamo potuto girare dei modelli molto grossi molto complicati che sono riusciti a fare le cose più utili di prima e a quel punto si è creato diciamo una connessione tra il Ticino e il resto del mondo in particolare con Google Google è stato tra i primi a rendersi conto che questa era una grandissima opportunità di business e già prestissimo nel 2012 13 ha cominciato a fare dei passi dicendo noi siamo un'azienda di AI in particolare cosa ha fatto Google Google ha acquistato una ditta che si chiama DeepMind che ha acquistato a circa mezzo miliardo di dollari nel 2014 ma la cosa che mi interessa è che questa ditta è stata cofondata cioè sono tre fondatori uno dei tre lo vedete lì Shane Legger era un nostro studente di dottorato quindi Shane noi l'abbiamo selezionato fra l'altro dal telefono dall'Australia è venuto da noi ha fatto quattro anni di dottorato poi ha fatto un anno all'istituto di finanza e poi è andato a Londra ha conosciuto degli altri è fondato DeepMind con 30 ricercatori a quel punto lì e dopodiché negli anni è diventata mille più ricercatori fra l'altro aveva questa curiosità gli hanno dato anche un ordine di cavalleria in Inghilterra per i suoi servizi alla scienza alla tecnologia e al business cosa carina e interessante magari possiamo pensare di dargli la gambardella questa cosa non so Alessio cosa dici insomma diciamo che c'è una connessione tra Google e il Ticino si vedeva già chiaramente nel 2015 quello che appunto ha accennato adesso Simone Fedele perché uno dei nostri algoritmi è stato inserito nei telefonini Android per fare il riconoscimento vocale da Google quindi è stato preso e sostanzialmente chi usa Android lo sta usando lo stava usando già prima poi un'altra cosa che è successa sempre che ha messo in risalto un po' Lizia è questa cosa qui e lì vedete il CEO di NVIDIA che è questo grande produttore di computer scade grafiche e così che nel 2016 premia i 10 istituti pionieri al mondo nell'AI e questa è una figura secondo me tra il divertente e lo straniante perché vedete che ci siamo noi adesso non so se riuscite a vedere qui c'è Lizia e poi gli altri sono tutti dei giganti cioè c'è Oxford fra l'altro Oxford e l'Izia sono gli unici due in Europa quindi PFL e TH stavolta abbiamo fregati poi c'è l'Università di Toronto New York University MIT Carnegie Mellon Berkeley Stanford e Qatar credo quindi insomma dei mostri e il piccolo istituto di Manno quindi insomma c'è questa connessione tra Lizia e il resto del mondo nel mondo intanto cosa succede? succede che DeepMind cresce ha cominciato a fare delle cose di questo tipo qui praticamente questo è stato pubblicato in Nature quindi un giornale di assoluto rispetto e ha fatto vedere che delle reti neurali imparano a giocare a vari giochi degli anni 70 senza sapere niente partendo da conoscenza zero non sanno neanche di che cosa stiamo parlando non sanno di essere con la barretta lì non sanno che c'è una palla sanno solo che devono schiacciare dei tasti e massimizzare il punteggio e si vede che nel giro di tante partite 400-600 partite questa rete comincia a giocare molto bene e gioca sostanzialmente come un ragazzino nel senso che sono molto più bravi di noi ovviamente i ragazzini a giocare a questo gioco qui quindi diciamo forse qualcuno non li ha presi tanto sul serio dal punto di vista dell'economia perché queste qui sembrano appunto giochini però per esempio adesso cosa vediamo vediamo questa cosa qui vi faccio vedere l'ultimo passaggio qua che fa il tunnel dietro eccolo lì e vedete che quindi questa qui è una strategia vincente con questo gioco tutto imparato da solo e l'input qui è stato lo schermo cioè solo guardare lo schermo nient'altro nessun altro input ok però adesso cosa succede invece a deep mind questa è una cosa dell'altro anno questa qui è una proteina che si ripiega perché le proteine si ripiegano come Lorenzo Leone ci può insegnare molto bene e quindi è una sequenza di aminoacidi che per ragioni fisiche e chimiche si ripiega in una struttura 3D da sola e prevedere la struttura 3D le proteine è importantissimo perché nelle proteine la struttura è la funzione quindi se sappiamo com'è fatta sappiamo che cosa può fare questa è una specie di santo graal della biologia perché è da 50 anni che ci stanno lavorando ma non si riesce a prevedere il ripiegamento delle proteine cosa è successo nel 2020 DeepMind ha prodotto questo software che si chiama AlphaFold è stato un po' passato in una maniera un po' sotterranea non ha creato grande clamore però in realtà questa è una rivoluzione biologica perché questa rete norale assieme della conoscenza esperta è in grado di prevedere molto bene come si ripiegano le proteine tant'è vero gli esperti che vedete scritti lì dicono questa è una cosa senza precedenti pensavamo ci volessero ancora decenni prima che si potesse fare una cosa del genere invece l'hanno fatto l'anno scorso e fra l'altro DeepMind adesso sta rendendo pubblica la struttura di tutte le proteine note che sono circa un milione quelle che conosciamo noi di cui 20.000 circa sono quelle che esprime il nostro corpo cosa vuol dire vuol dire che i ricercatori in biologia potranno prendere questa previsione di struttura 3D e cominciare a pensare che magari quella sia la struttura vera e farci degli esperimenti per capire se quella è vera o no se funziona o no quindi questo darà un'accelerazione enorme alla biologia questo sarà un impatto enorme per le nostre vite da un'azienda di AI che è partita facendo diciamo giochini ok anche se non erano proprio giochini una cosa di due settimane fa invece è questa DeepMind ha fatto un sistema per le previsioni del tempo per la pioggia in particolare che pare essere migliore di tutti gli altri ma molto molto preciso per sapere quello che si chiama il now casting quindi la previsione della pioggia entro un'ora e mezza che è una delle cose più difficili da fare nelle previsioni adesso hanno fatto questo sistema che analizzando le immagini del satellite del radar sono in grado di prevedere dove e quando pioverà nella prossima ora e mezza con estrema precisione e incidentalmente c'era quest'altro articolo che ho visto su Corriere del Ticino dove Berset inaugurava il congresso mondiale di meteorologia dicendo bisogna assolutamente fare previsioni affidabili che mi va bene ed è carina sta cosa che lui le inauguri però diciamo avrei preferito che l'avessimo fatto noi piuttosto che DeepMind e magari l'avessimo venduto a caro prezzo in giro per il mondo quindi nel resto del mondo cosa succede? succede vabbè questo è PwC diciamo non uno degli ultimi consulenti al mondo che dice che la previsione per il giro d'affari dell'AI globalmente per il 2030 è circa di 16 trillion quindi 16 mila miliardi di dollari quindi un'enormità diciamo più di quello che producono India e Cina al momento complessivamente e quindi l'economia insomma più o meno questa cosa credo l'abbia capita la politica se andiamo nel 2016 vediamo che già questi sono due rapporti prodotti dall'ufficio del Presidente degli Stati Uniti e della House of Commerce in Inghilterra riguardanti l'impatto dell'AI sulla società quindi non sono cose tecniche di AI sono cose molto concrete che dicono cosa succederà nei trasporti negli ospedali nella scuola educazione nel 2016 questo cinque anni fa che per noi diciamo che lavoriamo nell'AI diciamo non sono quasi un'era geologica però insomma ci si avvicinano perché cinque anni sono successe veramente tantissime cose e questo ha avuto dei frutti perché se guardiamo nel 2020 durante la presidenza Trump Trump ha detto investiamo un miliardo di dollari per la ricerca su quantum computing un'altra cosa molto promettente e AI se andiamo a vedere nel 2021 andate sul sito ai.gov questo è il sito dell'iniziativa nazionale dell'AI degli Stati Uniti e potete vedere che loro hanno delle politiche molto chiare ben strutturate per i vari settori dell'economia come l'agricoltura i stami finanziari la salute i trasporti con previsioni di investimento e tutto quanto ne può seguire quindi c'è un grandissimo fermento dall'altra parte dell'oceano anche molto dal lato economico e poi ovviamente questo anche in Cina ma adesso della Cina non parlo invece in Europa che è la nostra vicina di casa cosa succede? succede questo che l'Europa emette delle grandi regole sull'AI regole etiche regole di vario tipo e come vedevo su Twitter tempo fa da un ricercatore di AI questo ricercatore diceva ma c'è più etica dell'AI in Europa che AI e questo è vero è assolutamente vero adesso recentemente l'Europa ha fatto uscire dei nuovi regolamenti sull'AI e questa è la risposta di Claire Claire è una rete di una delle più importanti rete di ricercatori in AI in Europa sono circa 430 laboratori 22.000 ricercatori e loro rispondono con consens quindi preoccupazione adesso io non ho elencato solo qualcuno dice con questa cosa qui faremo dei danni alle piccole e medie imprese perderemo competitività i fondi non sono sufficienti stiamo perdendo talenti verso gli Stati Uniti e la Cina e non stiamo facendo niente che veramente cambi la situazione queste sono Claire quindi sostanzialmente una rappresentanza molto grande dei ricercatori europei questa è una cosa che ho letto su Corriere della Sera del 3 ottobre di Angelo Panebianco che mi piaceva quindi l'ho riportata qui e lui diceva una cosa su cui sono molto d'accordo diceva sostanzialmente lui parlava dell'immobilismo europeo e diceva non possiamo andare avanti così anche nella tecnologia si può diventare sudditi e su questo veramente io ci credo anche solo perché non controlliamo le tecnologie essenziali quando le controllerà qualcun altro saranno loro a dire cosa possiamo e cosa non possiamo fare quindi quello è un terreno di scontro non solo economico ma anche sociale civile un'altra cosa che leggevo nel Corriere della Sera un articolo di Fabio Collasanti che cita un economista che mi piace molto si chiama Marianna Mazzucato che è un economista italo-americana e lei quello che dice sostanzialmente è il confronto tra gli americani e gli europei o più in generale tra i paesi pragmatici e i paesi giuridici qui per i paesi pragmatici tipo appunto gli Stati Uniti quello che conta è il risultato finale cioè ce l'abbiamo lei ha in mano o no per quelli giuridici quello che conta è che i soldi siano spesi correttamente che ovviamente è un buon principio però bisogna anche non farsi fregare questo principio qua e lei dice in particolare gli americani hanno identificato degli obiettivi di ricerca importanti hanno creato delle organizzazioni ad hoc con lo scopo di raggiungere dopo magari ne parliamo hanno messo sul tavolo cifre molto alte hanno messo a capo di queste organizzazioni scienziati e manager di altissimo livello dando loro una grandissima discrezionalità su come utilizzare i fondi a disposizione anche questa è un'altra cosa su cui credo molto secondo me la strada se vogliamo fare qualcosa è questa qui comunque insomma manca di questo vediamo se ne riparliamo dopo tornando al Ticino poi concludo in Ticino cosa è successo per esempio è successo da un lato appunto che secondo me ci siamo fatti fregare un po' Shane Legge che si è andato a creare DeepMind a Londra dall'altro cosa è successo che il professor Michael Bronstein che era dell'Usi ha creato questa ditta Fabula AI per il fake news su internet per trovare le fake news e così via la misinformazione però Fabula è stata creata a Londra io questo non lo so perché è stata creata lì ed è stata acquistata da Twitter nel 2019 però il professore era qui adesso lui è lì ed è lì anche l'Imperial College non è più all'Usi credo che aveva solo un titolo diciamo tipo professore aggiunto qualcosa di questo tipo ultimissime notizie agosto 26 vedo questo tweet su Twitter appunto agosto 26 di quest'anno l'iniziativa Caust che adesso vedremo che cos'è dice che finalmente il professor Schbiduber che se non lo sapete è un direttore scientifico dell'Izia ed è uno di quelli più visibili che ha creato tantissime delle cose che sono andate in giro per il mondo da parte dell'Izia finalmente raggiunge l'iniziativa dell'AI di Caust come direttore ok vediamo dov'è questa iniziativa di Caust ed è in Arabia Saudita quindi Jürgen adesso dal primo di ottobre è al 70% direttore della Caust Initiative in AI in Arabia Saudita è rimasto al 30% qui da noi adesso io non ho parlato con Jürgen non so come vado a finire però insomma se uno va al 70% e qui rimane al 30% ho l'impressione che prima o dopo andrà al 100% se vuole di essere direttore di un'iniziativa di questo tipo quindi il punto è stavo perdendo forse anche lui ci siamo domandati perché Jürgen è un personaggio scomodo ed è insomma ha una personalità di un certo tipo non è sempre facile però è assolutamente uno dei 3-4 ricercatori nel mondo che hanno fatto delle cose molto molto importanti e che lo conoscono tutti per vari motivi ma sicuramente anche per i suoi contributi scientifici perché ce lo stiamo perdendo non so pensiamoci su quindi le mie domande finali e provocatorie per concludere sono non è che magari abbiamo preso un po' sonno sull'AI ci sta sfuggendo qualcosa e la domanda dopo è per essere concreti quanto stiamo investendo nell'AI perché al di là di tutte le chiacchiere quello che conta sono i soldi quanti soldi ci stiamo mettendo perché negli Stati Uniti quando gli USA vogliono investire parlano di billions no di miliardi in alcune grandi ditte tipo OpenAI e così via e noi cosa facciamo e con questo concludo e vorrei dare la parola ai nostri ospiti adesso in ordine casuale chi vuole intervenire altrimenti insomma dopo chiederò io qualcosa quindi se volete non so cominciamo da Lorenzo che lo vedo già bello pronto non sono secondo me la persona corretta vorrebbe iniziare Mauro Dell'Ambrogio perché molti degli aspetti toccano anche le politiche diciamo a livello federale secondo me da un punto di vista proprio anche della tua esperienza Mauro in un ambito proprio di queste scelte strategiche ecco mi piace sapere poi io posso dare dei contributi più specifici su quello che stiamo facendo qui sì la segreteria di Stato che ho diretto per 12 anni si occupava della formazione della ricerca e dell'innovazione che è già una posizione direi di vantaggio rispetto ad altri paesi che hanno queste competenze sparse in ministeri diversi ed è chiaro che il nocciolo di tutta la faccenda è la guerra per i talenti questo è stato detto cioè i talenti bisogna attirarli bisogna in qualche modo sfruttarli bisogna anche saperli trattenere dopo ci sono quelli più facili io con Jürgen 30 anni fa quando ero direttore della SUBS ho negoziato su un stipendio quindi so che non è un tipo facile ma che cos'è che permette a un paese di attirare di trattenere i talenti questa è la domanda chiave uno dei fattori fondamentali è l'apertura la Svizzera si è passata aperta quando cent'anni fa in Europa i paesi erano solo loro università molto nazionalisti per cui addirittura se non giuravi fedeltà al potere non potevi insegnare noi abbiamo abbiamo ospitato attirato talenti in tutto il mondo c'è un'antica tradizione in questo senso e in questo senso il fatto che adesso rischiamo di essere escluse dei programmi europei ma non vorrei aprire una discussione su questo che siamo tutti d'accordo è una forte minaccia cioè la vera la permeabilità perché i talenti non li trattieni chiudendo le frontiere i talenti li attiri se sono aperte e chi arriva si trova confrontato con altri talenti da tutto il mondo può in ogni momento interloquire e muoversi rispetto agli altri non li puoi trattenere fisicamente li trattieni col fatto che sei aperto e che quindi sono qui sì ma potrebbero ma lavorano come se fossero anche altri c'è il problema dei soldi il problema dei soldi è vero in Svezia non siamo così male siamo uno dei paesi che investe di più in ricerca e sviluppo siamo oltre al 3,5% i pochi che ci soppassano è perché hanno molta industria militare della difesa che richiede Israele credo anche Svezia però ecco senza una grossa industria della difesa noi siamo praticamente il numero uno ma la Cina galoppa quando ho cominciato io la funzione a Berna era l'1,5% adesso sono il 2,5% quindi in più la Svizzera ha un buon mix 70% privato 30% pubblico e poi anche ben indirizzato il pubblico investe sulla ricerca di base che non dà ritorno il privato investe sulla ricerca applicata che dovrebbe dare ritorno diciamo sistemicamente siamo piccoli centralmente la piccola dimensione è di per sé un'edica e l'esperienza insegna che attraverso gli strumenti che ha la Svizzera Fondo Nazionale della Ricerca partecipazione ai programmi europei in No Suisse i politenici federali dove si concentra la spesa per la tecnologia non dimenticate che nel 1854 Stefano Francini propose di fare un'università nazionale per in qualche modo mettere insieme le diverse sensibilità le culture il Parlamento aveva la saggezza di dire no lasciamo che andiamo avanti con l'università cantonale facciamo un'università tecnica perché abbiamo bisogno di tecnologia e per 170 anni conseguentemente la Confederazione ha investito decine di miliardi nella tecnologia nei politecnici sussidiandosi in campo il resto e questo è stato storicamente la chiave che ha reso la Svizzera competitiva questa capacità di utilizzare in modo centrale le risorse per un obiettivo adesso naturalmente in che modo si può pilotare la spesa in particolare della Confederazione sull'antiluvigenza artificiale piuttosto che su altri settori ci sono i programmi del Fondo Nazionale c'è una tradizione direi di autogoverno della scienza in Svizzera perché non è non è nel segretario di Stato o nel Parlamento che decide quanto va per l'astronomia o quanto va la comunità scientifica medesima attraverso il Fondo Nazionale in primo luogo definisce le priorità lo stesso capita poi per il sostegno abbiamo qualche tabù che ci distingue nel bene e nel male degli altri paesi per esempio in Svizzera è vietato per legge utilizzare fondi pubblici per finanziare direttamente l'innovazione delle aziende private con il No Suisse abbiamo un meccanismo molto raffinato per cui la Confederazione paga i costi di quelle università che collaborano con i privati si fa un progetto metà delle spese metà dei costi si sopporta l'impresa che vuol sviluppare il prodotto il processo produttivo metà l'università che collabora e la Confederazione con un sistema di messa a concorso eccetera paga l'università ma non paga mai la ditta anche perché vediamo che nei paesi dove avviene il contrario c'è un fortissimo rischio evidentemente perché io devo pagare io come imprenditore le tasse per finanziare il concorrente che riceve i soldi dallo Stato mentre lo Stato a me non li dà solo perché un burocrate dice che io sono meno innovativo o meno potenzialità innovative dell'altro cioè capite che entrate si entra in un contesto la tradizione in Svizzera è appunto quello che i soldi pubblici non vanno per l'innovazione e per l'essere privati se questo modello tutto sommato ci ha dato ragione siamo i numeri uno almeno in confronto europeo se questo modello è sorpassato bisognerà arrivare a fare dei grandi programmi nazionali non lo so questo è un tema di cui dovranno occuparsi i miei successori vorrei darti un'altra marca se mi permetti è legato al fatto perché le aziende investono poco nelle AI in Svizzera è un po' con una prospettiva differente dal mio punto di vista l'offerta la competenza il talento c'è in Svizzera la sufficienza in abbondanza il problema è nella domanda quindi cosa succede di solito nelle aziende quando si parla di intelligenza artificiale intanto ci si trova e se ne parla così si dice ma per favore guardate un po' suona bene l'intelligenza artificiale suona bene dateci un'occhiata e pensateci e poi di solito quando si parla di un boardroom quindi di un consiglio di amministrazione o di una direzione generale la stanza si divide in due la metà della stanza dice ma non abbiamo abbastanza dati e la metà dice uh abbiamo una marea di dati tutti si trovano d'accordo sul fatto che i dati ci sono o non ci sono però che i dati sono difficili da utilizzare quindi già lì c'è un punto dove la discussione si arena tu dici no ma questi dati ma dove sono ma come facciamo non facciamo perché è troppo poco perché sono troppi dati è una marea di dati tutti si trovano d'accordo i dati non si possono usare poi arriva il problema della diffidenza dove sono i dati ah ma come facciamo avere l'infrastruttura li mettiamo in cloud la cloud non è sicura Stati Uniti Cina e Unione Europea centro di calcolo in Svizzera lo mettiamo nel Gottardo nei fortini militari ma poi c'è il cyber terrorismo ma come facciamo a difenderci quindi lì c'è il secondo punto di arenarsi e il terzo è sempre di dire ah ma non si trova nessuno che ci aiuta e quindi vabbè insomma cominciamo facciamo magari un progetto in No Suisse facciamo un progettino a parte e vediamo cosa succede e questo diventa un po' una self-fulfilling prophecy quindi le aziende non puntano abbastanza sui dati sull'intelligenza artificiale come asset strategico come risorsa strategica per la competitività è molto molto difficile arrivare a un'azienda e avere una discussione che per l'IA l'intelligenza artificiale sia la discussione giusta vuol dire porsi la domanda giusta come cambierà come rimarrò competitivo nel futuro utilizzando l'intelligenza artificiale come dovrò competere per il consumatore come dovrò arricchire i miei servizi con questa intelligenza artificiale come dovrò cambiare la mia catena di valore grazie all'intelligenza artificiale e poi tutto il resto sono misure tattiche quindi dove sono i dati abbiamo i dati non abbiamo i dati li metto sull'infrastruttura la cyber sicurezza per tutto il resto c'è una soluzione in Svizzera abbiamo tantissimo talento abbiamo un'infrastruttura che è eccellente sono infrastrutture globali che si possono usare quindi l'infrastruttura di Google di Amazon di Apple di Microsoft sono tutte infrastrutture che ci sono anche qui che possono tenere in sicurezza i dati che danno il controllo della privacy danno il controllo dell'etica danno tutti i controlli possibili il nocciolo della questione e dal mio punto di vista è avere un ricambio generazionale nelle boardroom delle aziende quindi avere molte più affidarsi dal punto di essere le aziende a persone più giovani che capiscono cos'è un algoritmo che capiscono cos'è un social graph che capiscono cos'è machine learning che capiscono il valore di questa intelligenza e avere poi veramente un discorso di ecosistema quindi che si creano dei punti di discussione come questi dove ci sono le accademie dove ci sono le start-ups dove ci sono le aziende che discutono su come utilizzare le AI al meglio e poi l'ultimo è al di là dell'iniziativa pubblica è avere un sistema di start-up non solo innovative ma start-up affamate di mercati mondiali perché la start-up che vive del mercato locale che approfitta del piccolo progetto per sviluppare un servizio non esiste più viviamo in un mercato globale tutti quelli che le aziende che lavorano nel campo dell'intelligenza artificiale sono concorrenti di Baidu di Tencent di appunto di Google di Facebook quindi sono inseriti in un sistema globale non si arriverà da nessuna parte avendo la piccola start-up che cercherà di creare 20 ricercatori molto molto specializzati in un'area specifica e cercare di costruirsi un mercato molto molto locale approfittando di finanziamenti pubblici approfittando di programmi di ricerca ci vuole veramente un discorso d'insieme avere delle start-up che sono orientate ai mercati globali e avere anche degli investitori poi che siano capaci di mettere i grandi ticket per finanziare queste aziende per finanziare queste espansioni io sono convinto che tutto comincia con l'ambizione delle aziende con l'ambizione delle start-up a voler conquistare i mercati globali e per le aziende a rimanere competitivi sui mercati globali utilizzando le AI posso aggiungere perché chiudo in realtà faccio proprio una sequenza logica da quello che ha detto Mauro ha detto Stefano allora due elementi di discussione secondo me importanti un primo elemento e prendiamo l'esempio personality venture abbiamo iniziato ad investire sotto legge da cantonale era un disastro praticamente bisogna essere anche onesti la politica non aiuta assolutamente dal momento in cui ci sono trasferiti cinque anni fa in banca Stato è stata un'illuminazione perché la banca ci ha dato la libertà di muoverci che è indispensabile di creare network con altri fondi con altre organizzazioni rimanendo in Ticino a livello di scelta di investimento che è un elemento determinante giustamente per banca Stato e dunque scorporarsi dalle dinamiche pubbliche è fondamentale altrimenti veramente si entrano in dinamiche che sono non produttive si perde tempo a fare cose a spiegare io devo andare alla commissione della gestione del canton Ticino a spiegare la prima domanda che facevano quanti sono i frontalieri che lavorano nelle aziende non il numero la massa salariale quanti soldi sono stati raccolti cose deliranti di cui la metà delle persone dormivano o non c'erano ed era una cosa assolutamente che non auguro a nessuno da un punto di vista pratico ma va bene così vuol dire che si deve spingere verso un'autonomia sono perfettamente d'accordo con Mauro che è indispensabile che ci sia una separazione netta tra finanziamenti pubblici che vanno alla ricerca di base alle università e i finanziamenti alle aziende che devono essere privati si può fare di meglio secondo me nell'andare a cercare a spingere un attimino chi sono gli investitori istituzionali qui abbiamo un problema abbiamo le casse pensioni in Svizzera che non mettono un centesimo in innovazione in Svizzera preferiscono darli a Blackstone preferiscono darli a Goldman Sachs e investirli a Londra a New York e poi ritornano con un premium notevole di percentuale che prendiamo noi ad essere investiti nei fondi che magari ogni tanto investono anche in Svizzera cosa che secondo me è un delirio assoluto lì si potrebbe fare con poco una volontà politica qualcosina che non dicono ma stiamo parlando di minimi singoli percentuali di quelli che sono gli asset colossali dell'AVS dei grandi istituti ma è un problema politico perché in realtà queste sono regolamentate come le banche a livello di regolamentazioni che di fatto impediscono di prendersi certi rischi a beneficio del sistema svizzero per cui una delle provocazioni potrebbe essere quella di dire ma ci stanno provando come settore di andare a cercare di creare delle condizioni adesso finalmente sembra che ci sia stata un'apertura ma ci sono io conosco amici che ci lavorano da 15 anni a questo concetto è stata una lentezza pazzesca con una resistenza enorme ma rimane un problema come dici tu Stefano culturale all'interno di chi gestisce questi grandi istituti di previdenza che hanno fondi miliardari non ci sono le persone che capiscono l'importanza di mettere anche un 1% di un miliardo che sono cifre importanti per la Svizzera e si potrebbe andare a sviluppare l'artificial intelligence così come le biotecnologie dove a punto di partenza siamo i migliori al mondo non c'è ombra di dubbio dunque abbiamo un gap secondo me che è un gap legato un po' alla nostra cultura che è difensiva molto regolamentata e quella che sono le vere possibilità potremmo diventare leader anche in quel settore lì poi bisogna dire una cosa c'è la massa critica allora se parliamo del Ticino non possiamo competere con Google su DeepMind non possiamo neanche competere con i fondi di investimento a Londra su DeepMind però possiamo giocare di sponda la Game Therapeutics l'abbiamo quotata al Nasdaq ed è un'azienda che rimane ticinese l'headquarter tutte le attività sono qui sono a Lugano stiamo assumendo la parte della tecnologia a Barcellona però di fatto noi possiamo muoverci in maniera opportunistica e andare a cercare capitale a livello internazionale mantenendo le attività il core delle attività qua in Ticino dunque bisogna giocare in maniera molto dinamica assolutamente d'accordo con Stefano che bisogna guardare lunghi tutte le nostre società non considerano neanche il mercato ticinese a livello di go to market ma anche quello svizzero è molto limitato in realtà le nostre società fanno l'80% del fatturato a livello internazionale forse anche più dell'80% dunque è un dato di fatto che bisogna cambiare mentalità bisogna lavorare scorporandosi dalle dinamiche politiche bisogna avere qualche magari miglioramento a livello delle dinamiche per esempio su come dico l'accesso ai capitali istituzionali a livello svizzero che sono colossali ma che vengono letteralmente dati nelle mani di persone a Londra e a New York e facendo questo possiamo continuare a essere leader a livello internazionale non bisogna anche dormire perché onestamente il problema è che noi pensiamo di poter uscire dalle dinamiche di ricerca internazionale europei e senza danni no i danni non li vedremo oggi non li vedremo fra un anno li vedremo fra cinque anni e se non si riesce a capire che c'è un impatto di una dinamica molto complessa di equilibri che abbiamo costruito con grande fatica in silenzio senza dirlo nessuno ma di fatto con risultati fantastici ecco questo è un problema se la politica insiste continua ad insistere con questo sistema di difesa puramente a mio parere per prendere due voti in più e senza guardare al beneficio a lungo termine al medio e lungo termine ecco che il rischio effettivamente è che ci facciamo male da soli però secondo me stiamo facendo bene dobbiamo continuare a migliorare su questa linea vorrei sentire un attimo la signora Fedele che vuole parlare poi c'è una domanda dal pubblico dopo la signora lo faccio molto breve io penso le aziende private vengono allora io vado a visitare tante PMI e vedo delle business model nuovi molto innovativi che usano l'artificial intelligence allora questa rivoluzione sta avvenendo è molto importante per la Svizzera perché l'economia in dieci anni proprio non va a essere dell'economia di oggi però se vogliamo stare i primi come siamo oggi in Europa per esempio ci dobbiamo investire ci dobbiamo investire nel research e di stare di stare aperto tanti anni nella scuola e quindi ho una visione alternativa o perlomeno complementare a quella che esprimono loro un mese fa i giornali hanno parlato in lungo e largo della possibilità che nascesse la democrazia in Afghanistan qui ci stiamo domandando la possibilità che nasce una cultura scientifica d'avanguardia in Ticino è lo stesso problema c'è una cultura di base che permetta di mettere la democrazia là e che permetta di fare sviluppo scientifico qui il signor Leone ha detto ha fatto un esempio che mi è piaciuto molto si presenta una certa cosa ti domandano quanti forestieri quanti frontalieri ci lavorano quella domanda lì te la farebbero scusi gliela farebbero 8 ticinesi su 10 io penso che una cultura della ricerca dell'avanguardia dell'innovamento può avvenire se c'è un humus sotto che permetta quella roba lì allora guardiamoci in giro prendiamo i nostri mezzi di comunicazione di massa giornali radio televisione tutto quella baracca lì quanto parlano di scienza quando io leggo che c'è un centro di competenza sugli droni super biasca non ricordo più dove tu parli con gli amici e ti dicono ma sono su giocare con gli aeroplanini l'idea che un drone più l'intelligenza artificiale possa migliorare l'agricoltura non passa per la testa ma non può passare per la testa se nessuno glielo dice quindi io rimprovero tutti voi di non fare una cultura di base ecco l'ultimo esempio io ho scritto diciamo un personaggio importante che era qui pochi minuti fa di aumentare la dose di scienza che passa nel suo sistema di comunicazione non mi ha nemmeno risposto se ne strafotte penso che il punto sia chiarissimo di questi generi saremo sempre lì a fare bottoni camice e start up per le api della valle di penia sicuramente è un buon punto è un buon punto è un buon punto non lo so vediamo e dopo valutiamo meglio e no però è assolutamente un buon punto chiaramente la scienza dovrebbe avere visibilità un consiglio a Alessio un consiglio a Alessio qualcosa che vogliono lanciare sull'intelligenza artificiale e l'editoria digitale trasforma intelligenza artificiale e gente che non mi importa come pubblica roba del genere di cui stiamo parlando che la pubblica con la penna d'oca o con il computer non me ne frega niente comunque questo è un altro aspetto su cui la politica potrebbe intervenire perché forse un anno fa leggevo che non ricordo esattamente quale paese forse l'Islanda ha dato corsi liberi a tutti cioè ad accesso gratuito sul machine learning all'intelligenza artificiale e questa è una cosa di alfabetizzazione giusto? Anche quello sicuramente può far muovere una cosa Giorgio che ti apprezzo ti accogliamo sempre volentieri però sei molto pessimista rispetto al nostro humus non siamo messi così male noi domani diamo due premi a due realtà notevoli che non sono cresciuti nel deserto sono cresciuti qui da noi quindi vuol dire che ci si muove si fanno anche cose buone e che la popolazione lo può capire e con i due premi per esempio che daremo domani e Mauro farà una laudazio arriverà a Brunobere a fare un'altra daremo dei premi a persone che sono qui insomma e lo diremo a tutti e penso che si capirà se posso una frase a parte la questione del bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto credo che la diagnosi in buona parte è giusta posso condividerla la terapia è un po' più complicata fare adesso parlare Luca Soncini che è rimasto un po' fuori no no un'osservazione io vorrei riprendere magari il mio pragmatismo apparirà un po' come una doccia fredda però riprendo un po' un filone anch'io come ha fatto Stefano come ha fatto Leoni allora noi abbiamo in Svizzera un sistema formativo che è d'eccellenza e quella è la formazione tanto è vero e tanto buono che ce li portano via una volta che sono formati o ce li portano via o se ne vanno loro il mondo il mondo è grande cioè siamo tutti liberi di andare dove vogliamo però sappiamo che la formazione è buona poi abbiamo il mondo della ricerca e la ricerca è diciamo di base o è applicata come ha detto Mauro Dell'Ambrogio poi però abbiamo un mondo che c'è che è il mondo che lavora che è il mondo delle migliaia e migliaia di aziende che esistono così come sono alcune sono d'avanguardia alcune sono vecchie ma danno lavoro producono offrono dei servizi e allora questa è la base di partenza e noi sappiamo che vogliamo andare avanti d'accordo che vogliamo migliorare in questo diciamo movimento che è la nostra società che è il mondo sociale economico produttivo ogni tanto e per fortuna sempre di più abbiamo delle start up ma voi sapete che chi come tanti di voi magari sono anche diciamo coinvolti in iniziative di ricerca e di lancio di nuove realtà e di start up purtroppo il tasso di successo è molto basso ma è normale che sia così solo che la nostra società penalizza e come sappiamo penalizza l'insuccesso diciamo il fallimento altre società come l'America per esempio diciamo non dico che le promuova ma le accetta più volentieri e quindi favorisce diciamo il ricupero e il rilancio però attenzione anche a non enfatizzare forse era quello che voleva anche dire Mauro Dell'Ambrogio parlando del bicchiere pieno della metà piena metà vuota cioè non enfatizziamo neanche diciamo la scienza soprattutto come ricerca di base che è un mondo noi dobbiamo adesso parlare io almeno in questo momento vorrei attirare la vostra attenzione su quello che è il mondo del mondo che c'è il mondo dell'imprenditoria che tra l'altro in Svizzera è caratterizzata da piccole e medie aziende soprattutto poi abbiamo anche quelle grandi allora adesso qui faccio un focus che è quello diciamo che conosco meglio che è quello del mondo della finanza allora perché l'intelligenza artificiale comunque c'è comunque ci sta invadendo cioè non è che ci sono quelli che sono pro o contro cioè comunque è una realtà solo che c'è chi è più avanti chi è un po' più indietro chi si accorge chi non si accorge chi usa tutti i vari devices che contengono diciamo l'intelligenza artificiale e chi meno allora nel caso per esempio della finanza che cosa vi posso dire io vi posso dire che le innovazioni tecnologiche e diciamo la digitalizzazione porta la banca ad un cambio di paradigma che è questo finora la banca va e ti vende a te cliente cioè io concepisco un prodotto lo studio dentro i miei uffici definisco che quel prodotto lì è perfetto per quel segmento di clientela perché vi ho segmentati tutti secondo la vostra potenza l'altro sesso vostra età eccetera vengo evoluendo con l'intelligenza artificiale la digitalizzazione e tutto il nuovo mondo invece io devo seguirvi nella vostra journey come va di modo a dire che inizia il mattino e vi alzate prima cosa guardate il telefonino poi andate a prendere il treno anche lì il telefonino o la macchina la macchina che andrà da sola senza più nessuno che la guida e io quindi vi devo rincorrere cioè devo seguire questa client journey e fare in modo che io sia presente lì che raccolga tutti i vostri dati per fare in modo di anticipare i vostri bisogni attraverso la lettura di tutti i dati che io dispongo perché ho detto come banca ne ho un sacco io sono in grado anche di capire se state sbagliando come azienda o come individuo e magari mi suonano anche gli allarmi per evitare dei problemi a me ma evitare anche i clienti sollecitarvi 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 questo sarà il nuovo mondo verosimilmente voi capite che per un'azienda una banca che si chiami UBS o che si chiami banca cantonale di una delle 24 banche cantonali del cantone della Svizzera vuol dire cambiare completamente diciamo il paradigma quindi come diceva anche Stefano prima di tutto bisogna cambiare all'interno dei board la mentalità ci devono essere anche i tecnici lì dentro secondo me ci devono essere anche quelli che capiscono cosa sta succedendo perché ci vogliono proprio i due componenti secondo me quelli strategici quelli fach proprio di settore poi vuol dire rivedere completamente la mentalità delle persone che hanno a che fare con la clientela delle persone che hanno a che fare con i prodotti che concepiscono i fondi di investimento eccetera eccetera e poi devi confrontarti con la tecnologia che hai le banche per esempio oggi hanno dei core system inadatti a affrontare queste nuove sfide e quindi una delle grosse difficoltà guardate una è di mentalità non si discute l'altra è anche normativa poi ce n'è una tecnica che è fondamentale noi abbiamo dei core system vecchissimi i dati sono segregati sono segmentati questo l'ha detto qualcuno di voi prima Stefano forse che tutti ti dicono i dati però eccetera la mentalità ho paura dei miei dati l'aspetto tecnico che i dati ci sono ma sono nascosti bisogna gestirli in modo diverso e poi i dati vanno gestiti real time non posso avere dei dati e gestirli fra un mese io so in questo momento che ti sei svegliato hai fatto una certa azione e devo fare in modo che subito risponda a un tuo bisogno questo è quello che l'intelligenza artificiale ci permetterà di fare i nostri sistemi sono abituati a gestire transazioni dell'ordine di centinaia al secondo dobbiamo passare alle migliaia decine di migliaia al secondo capite che vuol dire cambiare la struttura allora e concludo che cosa voglio dire con questo voglio dire che noi dobbiamo fare in modo che oltre alla formazione oltre alla ricerca di base oltre alla ricerca applicata noi dobbiamo fare in modo che all'interno delle nostre aziende piccole medie grandi si sviluppi di quell'humus di cui ha parlato anche la signora fedele e che fa sì che viene voglia di prepararsi al meglio per questo nuovo mondo trainati anche senz'altro dalle start-up senz'altro dalle poche purtroppo storie di successo ma senza necessariamente focalizzarsi solo su quelle perché commetteremo un errore madornale che è quella di assenza di pragmatismo e di lettura di una realtà socio-economica che comunque esiste e che è su questa anche secondo me che dobbiamo lavorare sicuramente le banche da questo punto di vista che hanno un filo diretto con queste realtà perché tutti noi abbiamo delle relazioni bancarie come aziende come individue passive e attive noi dovremmo poter come finanza attivare se vogliamo questo canale per far sì che questo humus cui faceva riferimento anche lei dal pubblico sia diciamo vivacizzato esatto grazie Luca devo dire che sono d'accordo sì e no con te ma adesso magari dettaglio però volevo volevo chiedere no perché lei mi ha detto che stiamo finendo giusto ma non siamo non abbiamo ancora mezz'ora o sbaglio purtroppo avevamo previsto fino alle sei no ma siamo partiti tardi giusto non vuoi fregare venti minuti se noi terminiamo avendo ancora appetito è un buonissimo segno ma sono visto ancora un attimo la parola ok allora io vorrei dire delle varie cose che ho sentito vorrei fare il punto su alcune come diceva Mario dell'Ambrogio la parte di fondo nazionale ovviamente quella non la vuole toccare nessuno nel senso che la ricerca di base deve andare avanti come è andata sempre i ricercatori sceglieranno i loro argomenti di ricerca non è assolutamente quello credo che sia da cambiare e così via il NoSwiss funziona bene grazie a Dio c'è però anche quello secondo me non è sufficiente perché io vedo un sacco di progetti in NoSwiss che dopo la fine rimangono sulla carta non vengono veramente usati c'è qualcos'altro che manca e secondo me tanti hanno parlato degli imprenditori io a questa cosa di imprenditori che prendono grandi rischi non ci credo molto nel senso che l'imprenditore secondo me si fa il suo bel calcolo del ROI a fine dell'anno quando anche come azienda andiamo a proporre delle soluzioni loro dicono ROI 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 dopo un anno quanto guadagno e loro vogliono dire assolutamente non li stanno incolpando al loro lavoro fanno questo lavoro qua e devono avere un ritorno sull'investimento il mio sospetto invece che manchi un po' di stato per l'organizzazione di un'iniziativa forte sull'AI perché l'AI è trattata come ogni altro settore mentre tutti stanno dicendo che è un game changer cioè non è la stessa cosa di che ne so adesso non voglio fare nominare cose che qualcuno si offende però l'AI adesso è quello che sta cambiando il mondo ed è trasversale finanziando l'AI finanziamo tutto quindi perché non so Alizia che si è da almeno dal 2015 così che si sa che è rinomata in tutto il mondo e così via perché non ci sono saltati addosso e hanno cercato di strapparci via per fare delle iniziative politiche economiche far partire delle perché perché tutti vogliono rubare i ricercatori di AI e qua noi andiamo avanti col business as usual cioè facciamo i nostri papers facciamo i nostri progetti ma non c'è questa percezione della pressione che dobbiamo fare qualcosa di diverso quindi c'è qualcosa che manca secondo me forse quello che viene in mente a me perché io pensavo a questa cosa ma cos'è che manca cos'è che non funziona al di là della cultura la cultura come dicevi tu Luca sono d'accordo però è la cultura dei tempi enormi di cambiamento e mentre l'AI in cinque anni capito stravolge il mondo quindi qui bisogna muoversi molto rapidamente la mia impressione è che bisognerebbe creare delle agenzie specializzate cioè per esempio abbiamo T-Venture ma va benissimo ma perché non abbiamo 10 T-Venture una per l'AI magari una per la chimica una per un'altra perché T-Venture ha quel budget e non ha 100 milioni di budget all'anno ok sono soldi ma sono soldi che ritornano prima o dopo credo che Lorenzo l'ha già detto i capitali istituzionali i capitali delle casse pensioni sarebbero una risorsa cambiando la regolamentazione poi nascono da sole le istituzioni che fanno del venture capital e che sostengono quella fase che giustamente è la più delicata cioè fatto il progetto di innovazione poi bisogna accedere al mercato lì occorrono occorrono ulteriori soldi e tanti soldi sappiamo che in questo non siamo i migliori al mondo siamo bravi magari prima nella ricerca di base siamo bravi a fare l'innovazione come l'abbiamo fatta finora tant'è che siamo in vertici mondiali è vero probabilmente per la prossima sfida bisognerà cambiare un po' qualche altra regola e disporre qualche strumento in più brevissimo Stefano uno spunto pratico perché come su Scom abbiamo l'anno scorso investito in Ticino in una start-up di AI noi abbiamo a livello nazionale una collaborazione sia col Politecnico di Zurigo che con le PFL di Lausanna l'unica azienda in cui abbiamo fatto un investimento in AI specifico è stata nel canton Ticino con degli imprenditori tra l'altro Marco Zaffalone Luca Gambardella e T Ventures ed è questo il punto perché abbiamo investito in Ticino e non ancora un po' in una cattedra Zurigo e un po' in una cattedra di EPFL perché in Ticino c'erano degli imprenditori non c'è solo la competenza è uno dei poli mondiali ma c'erano degli imprenditori c'erano delle altre aziende che come noi ci hanno messo dei soldi e hanno detto noi siamo interessati sì in investire in una equity story quindi in investire in un'azienda che magari nel futuro varrà 500 milioni o un miliardo però siamo interessati a investire in un'azienda che lavorerà per noi che farà progetti concreti quindi dal mio punto di vista dal nostro punto di vista come Syscom l'elemento fondamentale è stato c'erano altre aziende che ci credevano e che volevano realizzare qualcosa di pratico penso che di capitale per progetti AI al mondo se ne trovano a Bizzeffe c'è troppo capitale di talenti se ne trovano ma non si trovano degli imprenditori molto molto vicini a questi talenti che vogliono investire che ci credano veramente e che cominciano a realizzare progetti concreti ed è per questo che quando noi abbiamo investito in artificiali è proprio perché c'erano questi imprenditori abbiamo visto la possibilità di lavorare con la ricerca con l'accademia col mondo del venture capitalist ma soprattutto poi con delle aziende che mettono questa AI approfitto per creare soluzioni e posti di lavoro come diceva Luca che rimangano nel territorio e che hanno poi un'ambizione a livello di fama mondiale poi voglio solo assicurare Luca che in realtà non è che abbiamo ricevuto grandi finanziamenti noi globalmente dalla nostra nascita nel 2011 abbiamo ricevuto in 10 anni 8 milioni da Banca Stato con una tronche di 6 e una tronche di 2 creiamo una massa salariale di quasi 20 milioni all'anno dunque mi piacerebbe tanto sapere qual è l'investimento del pubblico in Canton Ticino che genera un indotto di questo tipo qua non c'è l'anno scorso abbiamo messo quasi 6 milioni per la promozione dei ristoranti e degli alberghi in un'estate per capirci dunque il discorso qui è che non è che si investe tanto in start-up non è il focus del Ticino per niente assolutamente non è il focus lo facciamo un po' sotto visibilità perché al momento che mettiamo fuori la testa prendiamo solo schiaffi in faccia dunque fondamentalmente il discorso è perché il discorso è esattamente quello che è stato detto dallo spettatore di prima non c'è la cultura di un certo tipo manca una base culturale e dunque se la lotta se il discorso politico verte su centomila cose meno quello che è veramente come vogliamo vedere un futuro nei prossimi dieci anni in Ticino sostenibile economicamente anche perché poi l'economia esistente è un'economia ancora molto legata a delle dinamiche che sono pubbliche diciamolo pure chiaramente cioè i grandi di tutte le piccole e medie imprese in Ticino la maggioranza lavorano nell'edilizia lavorano sono attaccate al settore pubblico dunque premoci chiaramente o ci crediamo che possiamo andare a dare conto in un sistema anticiclico perché il vero discorso che diceva la signora Viss prima è che la Svizzera nel periodo del Covid ha creato più società le nostre aziende hanno fatto un boost di revenue e di occupazione nel 2020 e nel 2021 dunque il discorso è che o guardiamo davanti in quella direzione lì e ci crediamo oppure abbiamo fatto una scelta che di fatto è difensiva e qualcun altro ci spianerà perché di fatto il discorso è poi quello dunque dal mio punto di vista non penso ci sia sta grande attenzione sulla start-up onestamente in Svizzera lasciamola fare a chi è in grado di farle mettiamo a disposizione un substrato forte della ricerca non facciamo idiozie come andare fuori dai sistemi di ricerca europei perché poi alla fine ci facciamo male da soli lo vedremo fra 5 anni e lasciamo che ci sia magari un po' più di competitività anche a chi fa il nostro lavoro perché se cominciamo ad investire soldi pubblici come hanno fatto in Germania in Italia storicamente il rischio che poi si finanziano delle cose inguardabili e il risultato è peggio di prima perché già in Ticino abbiamo una storia di casi di successo che hanno raccolto centinaia di milioni poi sono finiti in nulla perché non c'era una base forte il lavoro che facciamo noi è un lavoro molto faticoso bisogna stare dietro la società bisogna selezionarle bene conosce bene Stefano l'artificio lì abbiamo un ruolo attivo bisogna essere sempre mantenere gli standard che sono i più alti possibili e non bisogna semplicemente andare in giro come facciamo spesso un po' da noi a dire che abbiamo risolto il problema dell'accumulo scumulo dell'energia con torri strane a questione che da un punto di vista tecnologico molto probabilmente non stanno molto in piedi e purtroppo lì ci è successo in passato in Ticino Fantastic Corporation Mondo Biotech Air Light abbiamo la specialità di andare a creare delle grandi storie che poi vanno in nulla e questo è il discorso che bisogna fare attenzione preferisco avere meno soldi avere più fame fare bene il mio lavoro andare a cercare capitali forti che mi danno una mano per seguire le aziende piuttosto che avere una mareata di soldi e poi trovarmi in una situazione in cui devo investire e poi finisco ad investire in casi che non hanno ragione di esistere dunque fondamentalmente dal mio punto di vista sono estremamente darwiniano su quello che è il ruolo privato degli investitori lo Stato deve mantenere delle condizioni favorevoli e in quel senso lì posso capire quello che dici tu Marco è magari certe volte dei push un po' più strategici in certe direzioni ci potrebbero anche stare in quel senso lì e però ha una scelta che è una scelta politica purtroppo immagino che a Berna non sia così facile che al momento che uno decide di fare qualcosa molto forte poi si ritrovano le dinamiche un po' più di territorio e dunque queste dinamiche qua sono difficili però la Svizzera l'ha fatto in passato ha fatto delle scelte molto forti e in realtà hanno pagato poi a medio e lungo termine io lo vedo molto positivamente in questo senso dunque separiamo i capitali pubblici da quelli privati lavoriamo sulla selezione e poi sulla cultura sulla cultura sono perfettamente d'accordo ci mancano aziende per fare delle iniziative concrete mi dicono che dobbiamo chiudere per cui velocemente magari Luca e Simone però vedi allora Lorenzo che la conclusione è che lo Stato l'ente pubblico deve aiutare e come diceva anche Simone a creare le condizioni quadro per un ecosistema e gli ecosistemi poi sono diversi adesso va di moda osservare il digital ecosystem che è quello che riguarda forse più noi questa sera però io lo vedo lì ecco uno Stato che crea queste condizioni poi all'interno diciamo dell'ecosistema ognuno gioca la sua partita quello che notiamo per esempio negli ultimi mesi in Ticino anche il ruolo dell'università ruolo della subsi ruolo anche di enti come fondazione agire eccetera queste a me piacciono perché contribuiscono ognuno al suo posto a creare diciamo le condizioni migliori affinché anche partano delle start up dei fondi pubblici sono utilizzati bene e mettono in condizioni i privati di mettere i loro di fondi ecco io agirei proprio in questo senso la cultura imprenditoriale la cultura innovativa è una di queste componenti che la crei attraverso la formazione attraverso tutta un ruolo anche dello Stato fondamentale dobbiamo dobbiamo davvero chiudere per ragioni di tempi abbiamo già sforato leggermente io ringrazio Marco Zaffalon e i suoi ospiti per queste importanti considerazioni ci sono insomma anche in Ticino tutti gli ingredienti per arrivare a un livello come quello della Svizzera che è numero uno in questo settore siamo un paese piccolo ma estremamente innovativo ed è proprio l'immagine che Berna vuole dare anche alle esposizioni universali di Dubai che si è aperta solo due settimane fa è proprio quella di un paese che oltre alle sue belle montagne è un paese fortemente innovativo quindi grazie a tutti per essere intervenuti a questo simposio sull'intelligenza artificiale prima di salutarci io volevo ricordarvi gli appuntamenti di domani sarà una giornata densa ricca di appuntamenti in mattinata ci saranno i premi l'assegnazione dei premi i tre premi tradizionali del Moebius ma poi ci saranno anche due premi speciali istituiti proprio per questo venticinquesimo anniversario uno dedicato al digitale e all'ambiente e uno dedicato al digitale e alla medicina premeremo Game Therapeutics che è stata nominata proprio poco fa durante la discussione nel pomeriggio l'incontro con Mario Botta e Dick Marty sul futuro della città e della democrazia poi andremo di nuovo a riaprire quelle sfere culturali che si stanno trasformando digitalizzando parleremo di arte e spettacolo parleremo di scienza parleremo di filosofia e infine dedicheremo un ultimo capitolo ai dati e all'importanza dell'interpretazione dei dati io vi ringrazio per essere stati qui vi invito a tornare domani e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato grazie 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 grazie